Grazie a tutti. A parto i lavazzieri di Campobasso, dove le ragazze della Magnolia Basket, saldamente in testa al campionato nazionale di Serie A2, sono sospinte da un tifo caloroso e tantissime donne, sempre più entusiaste per le imprese, delle proprie beniamine. È un grandissimo tifo di donne, siamo io e le mie sabati anche in trasferta per seguire la Magnolia. E ci ritroviamo sempre qui, come ogni fine settimana, a tifare per le nostre famiglie. Basket Magnolia, forza ragazzi, viva le donne! A dar loro manforte, anche una nutrita pattuglia di uomini, riscoperto, il piacere di intonare i corri d'austra, ma sempre nel rispetto degli avversari e dei loro tifosi. Un pubblico caldo che sia per non essere mai stato sanzionato disciplinarmente. Siamo veramente il sesto uomo in campo. Sempre, e viva le donne, rispetto. E il risultato finale è quanto mai gratificante, sia per la classifica che per il morale. Insieme, sia mamme, ragazze, insieme ai fidanzati, mariti, guiscono a fare il tifo per noi, perché ci fanno sempre sentire il loro calore. E a me piace tantissimo, dopo le partite, andare se mi fanno veramente morire. Siamo una enorme e bellissima famiglia.